Oh madonna, 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 io sono senza parole, io veramente sono senza parole ragazzi, io vi giuro, faccio una fatica terribile, tremenda a trovare le parole per giudicare quello che ho visto. Cioè io se ripenso al fatto che che avevi una possibilità enorme di poter arrivare in finale giocando una competizione che praticamente era in casa perché facevi ottavi, quarti, andata a un ritorno delle semifinali, l'eventuale finale in casa davanti a 60.000 spettatori, tu hai avuto già la dimostrazione che le partite non vanno sottovalutate perché lo stesso Napoli è uscito contro la Cremonese che ha fatto una bella partita anche lì, e io mi devo vedere una formazione con Tahirovic, Volpato, Belotti, con Bulla, tutti insieme. Questa sconfitta, questa eliminazione ce l'ha Murigno tutta sulla coscienza, tutta, tutta. E io non sono un tipo che dà la colpa ad una singola persona, ma le scelte fatte nel primo tempo sono state aberranti. E non ti dice sempre bene che poi nella ripresa la riesce a rimontare. Perché succede, come è successo stasera, che dopo tre minuti mettono la palla in mezzo e Selic decide di infilarsela in porta, culminando con quell'episodio una prestazione tra le più brutte che abbia mai visto nella mia vita da tifoso della Roma. E lo sottolineo, lo dico adesso, sarò smentito? Sicuramente sì. Sì, ma questa per me è stata la partita più brutta che abbia mai visto in vita mia. La più brutta. Perché non ce n'è uno, non ce n'è uno, che sì è salvato. Fin dai primi minuti io l'ho visto, che non era il giusto atteggiamento. Sì, il tiro di Tahirovic qui, ma già loro comunque erano ben messi in campo e lo sono sempre stati. Quindi, oggi la Cremonesa ha fatto la partita, una delle partite più assurde di sempre. Ma perché questo? Perché loro sono arrivati qua con la testa libera. Perché non avevano niente da perdere. Già erano ai quarti. Per una squadra che è ultima in classifica con zero vittorie, essere in Coppa Italia, aver battuto il Napoli, essere lì, già era un buon risultato. Eppure ti è bastato giocare con una squadra tranquilla, senza fenomeni, solo con le idee chiare in mezzo al campo, e tu non hai capito niente. Io vi giuro, io lo dico adesso perché poi sicuramente magari dirò, ma no, magari la testa col passare dei giorni mi farà cambiare idea. Questa è stata una delle partite più brutte che abbia mai visto, anzi la partita più brutta di sempre. Perché qualcuno mi dirà il Bodo, qualcuno mi dirà il Manchester, ma i 7 a 1 erano contro squadre forti. Con la Fiorentina era una situazione particolare, lo sapevamo, eravamo in crisi già da diverso tempo, ma adesso arrivavamo dopo un periodo abbastanza positivo. Non di dominio, ma abbastanza positivo. Tralasciando l'ultima sconfitta che era col Napoli stesso. E tu sei andato a fare una partita vergognosa, ma proprio vergognosa a livello anche tecnico, puramente tecnico, come se giocassero due squadre, una di serie A e una di serie B, ma la scuola di serie B eravamo noi. E io mi devo sentir dire che la Roma ha fatto un gran mercato, che ci siamo rinforzati, che siamo una squadra completa. Dove siamo una squadra completa? Dove siamo una squadra completa? Se basta una Cremonese, ripeto, con le idee chiare, che non aveva neanche i titolari nella prima parte di partita, per metterci in difficoltà e per farci sbagliare così tanto! Così tanto! Io ho visto una marea di errori semplici, basilari, cross, passaggi, tiri. Io, se ripenso a quel palo di Ebram che era regolare, che a porta vuota ha preso un palo pieno, che non sa neanche lui come ha fatto, io impazzisco! Io impazzisco! Per non parlare della gestione palla di Cumbulla prima del rigore dell'1-0, che tu sei da solo, non c'è nessuno di fianco a te, e ti permetti di controllare con una sufficienza, come per dire, vabbè, come si fa a fare un errore del genere? Poi noi ci incazziamo, noi siamo bravissimi a protestare, per ogni minimo contatto, Dio, 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 e non è mai fallo, a lamentarci, a prendere già gli inutili, su questo siamo i fenomeni del mondo, i più bravi dell'universo siamo. A fare un tipo di gioco sensato? No! Oggi vi giuro, non abbiamo fatto due passi indietro, ma dieci passi indietro! Dieci passi indietro! Perché sarebbe bastato tanto poco, così poco per passare stasera, l'abbiamo visto, hai fatto il 2-1 al 94esimo, sarebbe bastato non fare quella cappella sull'1-0, non farsi autogol, magari, quando entrano tutti i titolari, e sfruttare le occasioni! Ma non lo dico per rimancare di rispetto alla Cremonese, ma è una squadra tecnicamente limitata, tu quello dovevi fare, importi tecnicamente, e portartela a casa! E portartela a casa! Per me la stagione adesso è finita, tu la puoi salvare solo se arrivi in Champions, e io porca di una puttana, lo so che è complicato, ma tu dopo questa figura di merda ci devi arrivare in ciabatte, con la pipa in bocca devi arrivare in Champions! Io non accetto che mi rimani fuori al quinto, sesto, settimo posto, tu o vai in Champions quest'anno, o è una stagione fallimentare, totalmente fallimentare, totalmente! io vi giuro, mi sembra di vivere un incubo, io ho visto che era passata la Cremonese col Napoli, ho pensato, porca miseria, ti sta dicendo un culo faraonico, cioè tu di solito, vedi le annate passate, ti becchi l'Inter a Milano, la Juve all'Orivento Stadium, la Juve di Ronaldo, magari non quella recente, e comunque neanche con quella recente vinceresti, hai un culo fantascientifico, come nel 2015 tu hai fatto una figura di merda abnorme, nel 2015 ve lo ricordate, sei uscito agli ottavi con lo Spezia, ai quarti aveste incontrato l'Alessandria, in semifinale il Milan, non questo, quello vecchio, quello che arrivava quinto, sesto, settimo, e arrivava in finale, contro la Juve, ma io non ti dico niente, se vai in finale, perdi con l'Inter la Juve e il Milan, ma no che mi esci in questo modo, noi avevamo già fatti i programmi, Roma-Lazio, finale derby, bella roba, adesso domani tocca anche sperare che loro escono, perché sennò ti prendono per il culo 100.000 volte, anzi, meritano di farlo già adesso, ma indipendentemente, ma anche se domani la Lazio, prende 8 gol dalla Juve, loro hanno il diritto di prenderti per il culo, fino a fine stagione, ne hanno il diritto, ne avete il diritto, cioè, voglio vedere i napoletani dopo che sono usciti con la Cremonese, sono stati presi in giro, e loro intanto stanno vincendo lo Scudetto, cioè se tu stai vincendo lo Scudetto, e mi esci dalla Coppa Italia, e ti dico, va bene, ma questo era l'unico obiettivo concreto che avevi a disposizione, io vi giuro non riesco a crederci, io mi sembra una follia, mi sembra di, mi sembra un incubo mi sembra, tutto questo mi sembra un incubo, abbiamo fatto così tanti errori, così tanti errori, che io non lo so, ma proprio mentalmente non sono scesi in campo, Pellegrini, proprio sotto zero, ma anche tutti gli altri, Belotti ha fatto il gol alla fine, giusto perché si è ricordato che è un giocatore di calcio, dietro malissimo, Sbolling è entrato, subito delle palle perse, Tahirovic che porca miseria, gioca, 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 ma è un giocatore da serie B, ma mi spiegate voi perché la Roma deve essere questa? Poi col tempo recuperavi Wijnaldum, magari ti davi continuità, ci potevi pensare adesso recuperi sto cazzo recuperi, perché sei già uscito da questa coppa, una coppa che era a portata di mano, poi ti ripeto, vi ripeto, in finale Roma Inter 0 a 3, sti cazzi, ma almeno te la giochi, almeno la speri, è un incubo veramente, io non riesco a trovare giustificazioni, per me così hai buttato, tre quarti della stagione hai buttato, tre quarti della stagione a febbraio, tre quarti della stagione, poi questi stronzi saranno capaci con l'Empoli anche di vincere 4 a 0, poi magari la partita più importante delle due la vanno a perde, ma secondo me, conoscendoli sono ancora più, sono così stronzi, che adesso con l'Empoli neanche sanno più quello che fare, giocano come stasera giocano, cioè mi spiegate perché una partita secca così importante, abbiamo dovuto fare così tanti cambi in mezzo al campo, l'ho detto anche in live, i leader non vanno toccati, li vuoi toccare? Ne togli uno, massimo uno, non li togli tutti, sono stati tolti il leader della difesa, Smalling, il leader del centrocampo, Matic, il leader dell'attacco, Dybala, come cazzo fai? Cremonesi a parte, loro te l'hanno dimostrato che basta entrare in campo con la testa, per vincere le partite, con la testa, tu la testa l'hai lasciata a casa, l'hai lasciata, adesso arriveranno i fenomeni a dire Zaniolo qui, Zaniolo là, tralasciando che ne ho parlato fin troppo, ma con Zaniolo non sarebbe cambiato niente, anzi forse si sarebbe fatto anche Spelle, niente sarebbe cambiato, io sono allibito, adesso basta, vi carico questo video, fate quello che volete, non vi chiedo nulla, domani le pagelle non le faccio, non le faccio, non le faccio, già ve lo dico, perché sono veramente troppo, troppo, troppo incazzato, stanotte io non dormo, veramente, stanotte io non dormo, io ripenso a quel pallo di Ebram, e impazzisco ragazzi, quanto avrei voluto che fosse stato due metri avanti, invece era regolare, se avesse segnato era regolare, però tanto sapevo che se avesse segnato, probabilmente nel secondo gol neanche lo farò, lasciamo perdere, buonanotte a tutti.